Una domenica vibrante con tante gare decise sul filo di lana ed una sconfitta che fa rumore, quella del Bari che a Cittanova perde la propria imbattibilità cadendo dopo 19 turni nel gironei del campionato di Serie D. Qualo calabrese sembra un pomeriggio come tanti per i biancorossi quando al quarto d'ora Langella realizza l'1-0 ed invece accade l'imprevedibile. Il Bari si addormenta, lascia il palino del gioco alla cittanovese che riesce a pareggiare prima dell'intervallo e poi addirittura a dilagare portandosi sul 3-1. La tardiva reazione dei Galletti porta al gol di Nannini ma finisce con un 3-2 che riapre in parte il campionato con la Turris a meno 9 a due giornate dallo scontro diretto in campagna. Apertissimo resta naturalmente il girone H. Il ventesimo turno ha regalato tanti sussulti ma non ha variato le posizioni in classifica. Dopo due pari consecutivi il Picerno è tornato al successo espugnando il curlo di Fasano grazie ad una doppietta di Kosovan bravo a colpire i bianco-azzurri in contropiede al novantesimo dopo il momentaneo 1-1 di Montaldi che sembrava aver indirizzato la gara sul pari. Andamento simile anche a Cerignora nel derbissimo con il Bitonto. Gli Ufantini passano in vantaggio con un discusso rigore trasformato dallo Iodice. Si fanno raggiungere da un ottimo Bitonto a segno sempre dal dischetto compatierno a 5 dal termine ma piazzano il colpo che li tiene a meno uno dal Picerno con una testata di polidori ad una manciata di minuti dal termine. Vince il Picerno, vince il Cerignola e vince anche il Taranto. Gli Ionici tengono botta sul difficile campo del Gragnano portando a casa tre punti pesantissimi grazie alle reti di Favetta e Roberti. Alle spalle del trio di testa da registrare l'agevole successo del team Altamura sul fanalino di coda Ercolanese e la seconda vittoria consecutiva della Fidelissandria. Il centro in pieno recupero di Siclari vale ai federiciani il successo sul Francavilla ed il ritorno in zona playoff. A chiudere il quadro delle pugliesi di Serie D il pari del Gravina che riacciuffa la Gelbison sul 2-2 grazie ad una gemma di Cheradia su punizione in pieno recupero e la sconfitta del Nardò che a Sarno perde ancora e non riesce più a trovare la retta via.